Vincenzo Accardo, Presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, lunedì si torna in piazza, perché? Per questa identità di malattia che si sta una confusione totale, dobbiamo far capire il governo, il governo di centro-destra, che già ha distrutto il sud e sta distruggendo a tutte le persone anziane, bollette, luce, gas, tutto questo che sta succedendo, adesso hanno fatto una finanziaria e hanno trovato dei sordi, diciamo, della decoltruzione della malattia, che dal 75 l'hanno portata al 60%. Questi tagli cosa comportano per i marittimi? Comportano un ulteriore taglio del 15%, ma non è questo, noi dobbiamo fare una domanda precisa e formata. Se uno prende un infarto e gli devono mettere un'angioplastica, la sanità dice che devi stare minimo sei mesi a casa, per controllo devi stare a riposo per sei mesi e poi fai ulteriori indagini, se stai bene ti danno l'ideonità, se non stai bene ti ritirai il libretto, ma la mancia parte dà anche l'ideonità. Lunedì il corteo a che ora partirà e qual è il percorso? Il corteo partirà da Piazza Luigi Palumba, dove è presso dall'associazione, si farà questo corteo per le città di Torre del Greco, contro un governo, contro un sistema malato, con cartellone e tutto, e poi ci concentreremo Piazza Santa Croce, dove lì prenderemo ancora altre iniziative, vogliamo fare una manifestazione con tutti i marittimi, ognuno con la sua macchina, si metterà da via l'Europa, si metterà sopra ogni macchina, siamo i maritti e cammineremo pian piano per la città, perché qua dobbiamo essere uniti tutti, ma il maritto deve vivere, deve essere curato a casa, non solo avere la beffa che ha avuto e deve pure morire di fama a casa. In chiusura facciamo un appello a partecipare. L'appello a partecipare è tutta l'istituzione, non solo di Torre del Greco, ma di vari comuni di Torre del Greco, dalla Campania, perché il problema è di tutti quanti, dove ci sono tantissime e tantissime marittime. L'appello è di tutti i cittadini di Torre del Greco di scendere in piazza perché un domani può succedere a ognuno di noi una situazione di questo genere e dobbiamo dire come viverà il marittimo che hanno tolto il diritto della salute.